intenditori di champions e nonno buongiorno ragazzi e buon martedì 5 novembre ieri sono stato a monza monza che praticamente sono partita leggera del mattino sono ritornato alle 6 di sera ed erano stanco stanco morto ovviamente per motivi lavorativi oggi sono a casa oggi sono preso un giorno perché sono già in sono in direzione frangia je m'appelle bare palermo direzione lilly juventus mi raccomando molto lì è una partita molto fondamentale ieri in pre lilly juventus ha parlato molto con turama ha detto noi siamo alle juventus e dobbiamo visto che sono le juventus dobbiamo sempre vincere giusto questa menta data vincente giochiamo con lille occhio vi dico soltanto questo occhio a david david occhio a quello che quello potrebbe essere prossimamente un nostro futuro attaccante a posto di vlouch quindi io oggi avrò non due ma bensì quattro occhi rivolto a sto ragazzo perché segna sempre ragazzi segna sempre è il secondo attualmente c'ha sette gol il secondo marcatore della league one praticamente dista di lunghezza un solo golo di barcola ma non molla barcola barcola la finchè la vacca l'attaccante del paris e c'è mente barcola ma non molla invece quindi mister pini mi raccomando poi a gente dice male ma perché come mister bene ti spiego su guarda guarda questo è mister b giusto quello quello reale non proprio a molto avanti e uguale è uguale è uguale è uguale guarda mister pino qua mister piste l'obbale l'ho battenzato qui abbiamo predator tour a mira ha parlato predator a e poi e poi lui francese nativo di francese e quindi poi ha parlato anche mister bini molto ha detto me raccomando che è una partita molto importante ha fatto gli elogi all'allenatore del lille questo lille ora guarda guardate ora ora vi dico il pronostico ora guarda questo lille si può battere secondo voi tu dici sulla carta lei è più forte giustamente giusto mi pare pure l'anti ventino dovrebbe dire così però se questo lille in champion ha i stessi punti nostri quindi sei punti sei punti una partita hanno verso loro una partita hanno verso noi solo noi abbiamo vinto con l'ipsia una squadra che ha secondo posto nel campo tedesco e va bene ma questi qua hanno vinto 1 a 0 con le ammarrite di angelotti di mbappé di vinicius quello che ha vinto ha vinto con la squadra vittorosa della cemmio l'anno scorso ha vinto 1 a 0 sto lille in casa poi fuori casa addirittura ha vinto con l'atletico madite del ciolo semeone 1 a 3 ora io dico se la matematica è un'opinione è possibile che tuvi questa juventus potrebbe vincere con lille perché se uno fa tutti questi sento dire ma se quello ha vinto così vedi il caccio perché se caccia una logica allora lei non doveva vincere anzi 1 a 0 a media praticamente 1 a 0 3 1 la praticamente il lille oggi dovrebbe vincere 2 a 0 a mani basse con la juventus eh scusa se ha vinto con il riammadrid e ha vinto con l'atletico madrid invece non è così perché il caccio non è una scienza vuoi vedere invece ora che la juventus noi che siamo siamo ancora al sesso posto ritorniamo al sesso posto mannaggia chi dei molti strano loro quindi sesso posto noi loro quarto posto del camminato francese loro hanno un signore attaccante noi a tratti quindi riusciremo a vincere con lille e tu dico su c'è bisogno fare un pentolino si vinciamo noi ma tu hai proprio tifosi proprio chi para occhi vinciamo noi non lo so se vinciamo noi il mio pronostico vuoi il mio pronostico allora guarda o ventolino l'ho lasciato non so se cazzo ventolino va bene tanto sempre da queste mani deriva allora secondo me secondo me secondo me secondo me lille 1 juventus 2 va bene 1 2 gol di david a noi segnerà turam in terra francese segnerà lui e cupo megas va bene cupo megas segna oggi sarà secondo me la partita di cupo megas segnerà lui per forza va bene quindi questo dico mi sono stato uno o due vinciamo noi vinciamo noi lille 1 juventus per me oggi mi sento che farà una partita stile l'ipsia che magari parte per anche con l'ipsia se partiamo per sfacciato invece abbiamo vinto e qua secondo me oggi farà la stessa partita perché oggi bisogna dire la parola fiducia fiducia noi con staccato abbiamo perso giusto poi con l'utinese forse abbiamo ritrovato di nuovo la fiducia da grande squadra e secondo me con lille vada se stasera molto va lì vinci con lille allora la juventus è di nuovo in salita vedi che vi dico capido in caso contrario ragazzi siamo da sesto posto il ragazzo è avvenuto a fiorendino con torino vada danno avvenuto inghiacchino 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 di nuovo ritorno da sesto posto La cosa buona è che dal stesso posto A Napoli Sono a lunghezza ben sottotitoli di 4 punti E sono recuperabili Ancora sono undicesima giornata Va bene Ragazzi Oggi è una partita Sicuramente ma sai perché dico 2 Perché è vero che quelli hanno Un grande consiglio attaccante Ora lo voglio vedere Sto David lo vedo tra le immagini Ma no non l'ho visto ancora a partita 90 minuti di David non l'ho mai visto Davide non l'ho mai visto Però voglio vedere oggi sono curioso Perché veramente questo potrebbe Scoppare posto mano Kai Wenderson Però la mia cosa Perché dico 2 Perché ho visto la formazione Anche ho visto la competa stampa Del loro allenatore Dice che mancano Ci manca mezza squadra Ci mancano quasi 9 giocatori Quasi titolari A parte solo David Poi è una formazione tutta Che si è inventata Da questo allenatore del Lille Quindi Per questo dico che vinciamo Va bene Perché Cavalci con la formazione titolare A questo mio peso Ma staremo a vedere Questo ovviamente Soltanto Un mio Modesto parere E poi lo sai che io Bero Mane Ci azicco 9 su 10 Ci azicco sempre Va bene Quindi Speriamo di fare una bella partita Vincere e convincere Perché abbiamo visto già Con Stoccarda In un'altra partita Non bisogna perdere Io dico 2 ragazzi Poi ditemi Se volete 1 o 2 1 o 2 Bene Stasera ci vediamo Ci vediamo stasera Per il dopo Lily Wenzel Forza Juve Mi raccomando Voglio 11 leoni 11 Proprio No giocatori Voglio 11 animali Voglio 11 titoli 11 leone Va bene Anche 11 zebra Va bene Anche la zebra E una che corre Che galoppa E galoppa E galoppa Mi raccomando Io penso Vai e vinci All'Ile Dimostra Che noi siamo Anche in Europa Siamo consapevoli Che abbiamo votato Anche in Europa Abbiamo perso Tanti finali Però Siamo sempre lì Abbiamo Nella storia Siamo sempre Una squadra Da champion Perché almeno in finale Siamo arrivati Abbiamo battuto Real Madrid Borussia Dortmund Barcelló Nella storia Vedi la storia E nelle finale Che abbiamo perso Ma sempre la Siamo sempre Stati nella squadra Da champion Quelli che dicono Fino a confine Fino a confine Lo cazzo Capito Noi possiamo Parlare I milanisti Possono parlare L'Inde purtroppo Perché aveva Una champion Ma l'Inde Non ha fatto male Tutto questo Grande percorso Champion Capito E che ha avuto Negli anni suoi Vedi anni Fu di metà Poi si appresenta E fa una E vi piace Capito Così Su quello Capito Comunque Mr. Bean Sono le tue mani Vincere E convincere È l'unica cosa Che conta Ecco Dobbiamo cambiare molto Vincere E convincere È l'unica cosa Che conta Ciao Voglio vedere Caccio Ciambai